Cinzia Patricola aveva 47 anni quando morì dopo 17 ore di permanenza al pronto soccorso dell'ospedale San Donato per una diagnosi sbagliata, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Arezzo che ha condannato l'Asle e due medici a risarcire i familiari. Una sentenza che arriva a 7 anni dalla tragedia. Era infatti il febbraio del 2017 quando la donna arrivò in ospedale con forti dolori al ventre. Fu curata per una pancreatite mentre si trattava di un'occlusione intestinale che nel giro di qualche ora dall'accesso al pronto soccorso portò all'arresto cardiaco e poi alla morte. La famiglia, assistita dall'avvocato Donata Pasquini dopo il decesso, presentò un esposto alla procura e fu così aperta a un'inchiesta. Il processo penale si concluse con l'assoluzione perché il fatto non sussiste di due medici finiti a processo per omicidio colposo, mentre adesso il processo civile sancisce in prudenze omissioni di imperizie nell'accertamento e cura ed impone risarcimento all'azienda sanitaria e insolito ai medici che seguirono la donna verso genitori, sorella e compagno di Cinzia. Desidero esprimere a mio nome e della mia famiglia la nostra soddisfazione per la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo, scrive sui social il cognato Angelo Rossi. Questo verdetto rappresenta un'importante conferma della giustizia e della verità che abbiamo cercato istancabilmente per 7 anni. La decisione del giudice non può ridarci Cinzia, ma rappresenta per noi un passo fondamentale verso il riconoscimento di quegli errori che hanno portato alla sua prematura scomparsa. Spero che questa sentenza possa contribuire a prevenire simili tragedie in futuro.